700 mila euro per il rilancio dei territori montani è la cifra destinata alla provincia di Arezzo e derivante dai 7 milioni di euro di risorse statali provenienti dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, approvato dalla Giunta regionale nel corso di una delle ultime sedute. Un finanziamento che si inserisce nel percorso tracciato dalla legge dei custodi della montagna, approvata dal Consiglio regionale lo scorso febbraio su proposta dei consiglieri Vincenzo Ceccarelli e Mario Puppa, creare nuove opportunità di sviluppo e di lavoro per il rilancio della montagna e il contrasto allo spopolamento per una regione più coesa e più forte, evidenzia Ceccarelli ricordando l'obiettivo della legge. Entrando nel dettaglio oltre 24.600 euro serviranno per finanziare il comune di Pieve Santo Stefano per la tutela dell'identità storica, la promozione del turismo e il potenziamento delle infrastrutture digitali della frazione rurale di Mignano. 125.000 euro andranno a Capolona per la manutenzione straordinaria della strada comunale Casa Vecchia-Vezza e il comune di Cortona avrà a disposizione 189.000 euro per i lavori di adeguamento sismico del ponte sul fosso delle Balze in località I Cappuccini. L'Unione dei Comuni del Casentino riceverà 160.000 euro per completare la realizzazione di infrastrutture per favorire lo sviluppo del turismo itinerante in Casentino, mentre all'Unione dei Comuni del Prato Magno per il miglioramento delle infrastrutture viarie arriveranno oltre 184.330 euro. Un'attenzione è quella della regione verso le aree interne di montagna che attraverso il nuovo programma regionale di sviluppo verrà potenziato ulteriormente, sottolinea Lucia De Robertis, presidente della Commissione Territorio e Ambiente.